Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Dio lo ha scelto per confondere i forti, quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio, grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione, e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Beato il popolo scelto dal Signore, beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità, il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, Beato il popolo scelto dal Signore, ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore, l'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto, è nostro scudo, è in Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome, noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore, Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i Suoi servi e consegnò loro i Suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno, e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti, e ne portò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti, e disse Signore, mi hai consegnato due talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento, e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura, e sono andato a nascondere il tuo talento, sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato, e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri. E così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile. Gettatelo fuori nelle tenebre. La sarà pianto, estridore di denti.